Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati, martedì 1 ottobre 2024, sono le 7.10 in questo istante, pronti a iniziare una nuova puntata e ve lo dico subito, oggi ho bisogno del vostro aiuto, eh sì, perché sono solo, in questo momento sono completamente solo in tutta la redazione, tutto lo studio, perché Beatrice è ammalata, quindi un abbraccio a Beatrice, sì, la settimana scorsa c'era la regia ammalata, oggi c'è la produzione ammalata, fate due conti, quando arriverà la comunicazione che sarò ammalato? Io chissà, sono già la terza aspirina comunque oggi, così per prevenire che è meglio che curare, comunque pronti, prontissimi più o meno alle 7.10 appunto a iniziare una nuova mattinata insieme, 331-78-53555, il nostro numero di whatsapp, potete scriverci per condividere con noi quello che volete, ma soprattutto per darci, no ma darmi in realtà, oggi voglio parlare per forza del singolare, mi puoi, tu che mi stai ascoltando in questo momento, mi puoi dare una grossa mano questa mattina, mi puoi aiutare ad arrivare a fine trasmissione, che non sarà male, ok, quindi ti prego scrivimi, dimmi qualcosa, raccontami di te, perché noi abbiamo un po' di notizie, ce le abbiamo, eh, però insomma, sai che mi piace così raccontare e chiacchierare con chi è all'ascolto dall'altra parte dello smartphone, della radio, dell'autoradio, perché ricordiamo appunto che Crystal Radio è sia in FM che in Dub+, oppure, come vi dicevo, sull'applicazione, eh, sul nostro sito internet, che stiamo aggiornando pian pianino, quindi, eh, si incominciano anche a vedere le facce di quelli che parlano, sì, sì, non solo la mia, eh, anche tutti quegli altri, sì, 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 perché ormai il palinsesto è bello pieno, è bello pieno tutto il giorno, oggi, ragazzi, fino a stasera, avanti Crystal Radio, eh, iniziamo solo adesso, buongiorno! I Boston con More Than A Feeling, alle 7 e 15 minuti, sempre qui in diretta su Crystal Radio, grazie a chi sta già arrivando in supporto e in aiuto con i Whatsapp al 331-7853-555. Ciao Fabio, auguri di pronta guarigione a Beatrice, un saluto a tutti i cristallini, buongiorno Alberto, c'è in giro l'influenza e torna anche il Covid, sì, allora, ecco, io spero che non sia ancora Covid, perché sarebbe la quarta volta che lo faccio, sinceramente, anche basta, cioè, su di me il vaccino non è che abbia fatto un gran che nome, no, in realtà, devo dire la verità, tutte le volte che l'ho preso, ma acqua fresca, in realtà, cioè, sto peggio quando arriva l'allergia, vi dico la verità, quando arriva l'allergia sto peggio di quando ho avuto il Covid, forse, appunto, grazie ai vaccini che ho fatto. L'influenza in giro, sì, la nostra, la nostra Ginevra alla regia è rimasta praticamente una settimana a letto KO con febbre a 40, ci diceva, poi finalmente nel weekend è riuscito a stare meglio, infatti poi dopo, oggi arriva, adesso, poi alle 8, alle 8 è qua. E invece Beatrice, ieri pomeriggio, mi ha scritto, ho un po' di mal di gola, sento un raspino in gola, e gli ho detto, anche io, gli ho risposto, però a me è andata peggio che, cioè, lei è andata peggio che a me, nel senso, io per fortuna sono ancora in piedi e sono qui tranquillo, e lei, invece, stamattina alle 5 è un messaggino dicendo, ok, KO, ha scritto, ok, KO, che è palindromo, come messaggio. Comunque, andiamo avanti con le notizie, anzi, iniziamo a leggere le notizie, perché, attenzione, amici ascoltatori, chi prende la M2 in queste settimane, stia attento, nel senso che, cosa succede? Corriere della Sera Milano, lavori sulla M2 del metro, mi piace che dice metro, metro, Corriere della Sera dice metro, lavori sulla linea M2 del metro. Dal 7 ottobre, chiuse le fermate Loreto e Cagliazzo, tutte le sere dopo le 21, hanno aggiornato il titolo, io non c'era dopo le 21, mi aveva un po' di ansia, e sì, perché al via, una nuova fase di lavori per la linea verde del metro, appunto, le alternative per chi viaggia sono il bus 81 oppure l'interscambio a Duomo. Cosa succede quindi? Dal 7 ottobre fino a venerdì 20 dicembre, tutte le sere dalle 21, la circolazione dei treni è sospesa tra Centrale e Piola, quindi chiuse Loreto e Cagliazzo, cioè si ferma a Centrale e si riparte a Piola e quindi dovete prendere un autobus o farvi da piedi. Punto percorsi alternativi, è possibile utilizzare la metropolitana M3 a Centrale, appunto, che consente poi l'interscambio con la M1 a Duomo, con la M5 a Zara, volendo, quindi se dovete andare da altre parti. Inoltre, la stazione di Piola è raggiungibile con un treno navetta da Alambrate, cioè fa avanti e indietro, oltre alla linea normale c'è un treno che fa continuamente avanti e indietro nel metro, per consentire, appunto, l'inversione di marcia dei convogli. In superficie, invece, è possibile utilizzare il filobus 9091, ecco, quella però va ovunque dove volete. Il cantiere, cosa prevede? Prevede la sostituzione di diverse componenti che sostengono i binari, quindi, insomma, un bel interventone di quelli importanti. Intervento ampio e massiccio, piano di investimenti e lavoro di manutenzione straordinaria che ATM ha avviato già negli scorsi anni per rinnovare tutta la linea verde. Ricordiamo anche l'impermeabilizzazione di molte stazioni. Vi ricordo sempre che quando è stata costruita la M2 la falda quiferera a un certo livello, quindi l'impermeabilizzazione è arrivata fino, diciamo, a non tutta la volta della galleria è impermeabilizzata. Con la chiusura delle fabbriche, con la chiusura di certe attività industriali, la falda quiferera si è alzata, mai sarebbe pensato negli anni 70-80 che arrivasse a quei livelli, è invece arrivata e quindi bisogna rimettere mano alle stazioni. In questo caso bisogna rimettere mano anche ai binari e anche alle strutture che appunto tengono e sorreggono i binari, anche giustamente per la sicurezza di tutti. Quindi un piano ATM importantissimo, 20 km di binari sono quelli che verranno sostituiti in questo frangente, in questo lavoro, in questo intervento appunto straordinario di ATM. Romantico Mamuori, pinguini tattici nucleari, grazie mille a Nello che al 3317853555 ci scrive un messaggio che adesso tu vuoi leggere così. Fabio, va tranquillo, hai la voce più bella di Barry White. Ok, grazie mille Nello, grazie, visto l'ho anche interpretato giustamente alla Barry White. Comunque, grazie e se avete voglia di condividere con noi cosa state facendo questa mattina, se avete voglia di condividere la vostra giornata o che cosa farete questa sera o cosa avete fatto ieri, siamo quello che volete. Noi siamo qua, 3317853555. Da Repubblica Milano leggiamo un articolo interessante su cui ci sarebbe molto da discutere poi su come funzionano le cose in questa città perché è Concorsopoli, assolti i rettori di Statale e San Raffaele, Franzini e Gherlone. Il fatto non sussiste. I giudici sulla tranche dell'inchiesta sui concorsi pilotati in cui i due rettori erano imputati, perturbata libertà nel procedimento, sono assolti. E assolti anche tre primari. Il fatto non sussiste. Questa è appunto la motivazione, le motivazioni reali usciranno fra 90 giorni, come si sa, funzionano così le sentenze. una situazione molto pesante, quella che si era abbattuta sui due rettori, da un po', nel senso che andava avanti da un po' questa inchiesta, anche che poi finisce così, in un nulla di fatto, perché il fatto non sussiste. Eglio Franzini, ex rettore dell'Università Statale, perché proprio oggi entra la nuova rettrice, quindi ha avuto questo premio, questa premio di uscita ieri, che insomma per fortuna è stato assolto e lui l'ha detto, c'è una dichiarazione su Repubblica che dice anche ero sempre stato molto sereno e questa sentenza odierna, con formula piena, conferma che avevo ragione ad essere sereno. Poi dice anche dire che ho vissuto bene questi mesi forse è un po' eccessivo, ecco, ma posso assicurare che non c'è stata alcuna ricaduta sul mio operato da rettore. Nei mi è stato fatto pensare, pesare alcunché all'interno della mia comunità, che oggi lascio con molto affetto, appunto perché ieri era l'ultimo giorno da rettore di Eglio Franzini. Anche Enrico Felice Gherlone, rettore dell'Università Vita Salute del San Raffaele, anche lui appunto assolto, ha spiegato semplicemente che se lo aspettava perché ero completamente estraneo ai fatti e quindi insomma anche qui capire il fango che è stato gettato su delle importanti personalità come quelle appunto dei due rettori, come mai poi si passa da tutti colpevoli, da tutto il dito che indica il colpevole, la lettera scarlatta, e poi dopo invece il fatto non sussiste, neanche da dire ma guardate alla fine hanno sbagliato però l'hanno fatto in buona fede, no no, proprio il fatto non sussiste. Quindi c'è da capire un po' com'è che funziona questa cosa qua che prima finisci sui giornali come colpevole, finisci in un turminio di fango e di melma che ti porta giù 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 e poi dopo si scopre che invece il fatto non sussiste. Poi in questo caso sono due personalità di spicco della città e insomma il fango se lo levano via di dosso molto molto facilmente, no? privati loro anche, mi viene da dire. Penso magari a chi invece non è così conosciuto nella città, così magari avvezzo anche alla comunicazione pubblica, avvezzo alle istituzioni pubbliche che invece magari fa molta più fatica poi a riprendersi dopo una batosta del genere. Vabbè comunque quindi auguri a Franzini e Gherlone e auguri anche a tutti gli universitari che in questo momento stanno andando in università. Una nuova rettrice, eh? Sarete adesso da lì a... Come sarà? L'altissima, com'è la veneranda? Com'è che si chiama quando è? Com'è il rettore? Il venerando, l'altissimo, l'illustrissimo, il magnifico. Ecco com'è il magnifico. Quindi sarà la magnifica in questo caso, no? Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, io ne ho tanti, sono quelli che stanno scrivendo al 33178-53555, grazie dei WhatsApp che ci state scrivendo, grazie a Lucia per il buongiorno, buongiorno anche a te, grazie mille e buon lavoro, buon lavoro a tutti e buona uscita in città, nel senso che in questo momento sicuramente vi state preparando o siete già in mezzo al traffico cittadino, prima mi ha sentito Luce Verde, adesso da Palleotto, poi ci sarà un altro collegamento con Luce Verde per sapere meglio appunto che cosa succede in città, ma intanto andiamo avanti a leggere. Le notizie dai giornali Repubblica, esami e visite dai privati convenzionati in Lombardia-Milano via agli appuntamenti taglia liste attese. San Raffaele, Humanitas, Galeazzi sono alcune delle cliniche che da martedì, primo ottobre appunto da oggi, forniranno prestazioni ambulatoriali di diagnostica in base all'accordo con la Regione. L'Humanitas ne farà, pensate, 5.535, il Galeazzi 12.105, Dognocchi 8.605, ieri San Raffaele un migliore ciascuno, Multimedica addirittura 22.550, sono le visite ambulatoriali di esami di diagnostica, quindi ecografie, TAC, radiografie, così, che le strutture private convenzionate con il sistema sanitario pubblico faranno a partire da domani, perciò da oggi, non ho letto male, oggi è il primo ottobre, sì, a partire da oggi, in aggiunta a quanto appunto già previsto. L'obiettivo qual è di questo nuovo accordo? Accorciare le liste d'attesa. Perché nei mesi scorsi la Regione aveva stanziato oltre 23 milioni di euro da ripartire tra le varie ATS per arrivare a macinare almeno 340.700 prestazioni aggiuntive a livello regionale, capito? Cioè sono 340.000 prestazioni che servono per riuscire a tagliare un po' appunto queste liste d'attesa enormi e lunghissime. Nel 2024 il numero delle prestazioni è salito del 19% rispetto al 2023. Signori, siamo una popolazione sempre più anziana, siamo una popolazione sempre più malata, anche se giovane malata, con quello che mangiamo, con il poco sport che facciamo, e ve lo dice uno appunto che è qua, bello paciotto seduto sulla sua seggiola, quindi insomma è abbastanza normale, come dato mi viene da dire. E qui forse la politica, come sempre io tiro in ballo sempre la politica, la politica qui dovrebbe cominciare a fare dei ragionamenti, benvengano queste situazioni così, cioè nel senso trovare nell'emergenza, trovare una soluzione, ad esempio quella di affidarsi ai privati e fare una convenzione appunto con i privati, ma insomma 23 milioni di euro non sono pochi, sicuramente costruire un ospedale costa sicuramente di più, ma bisognerebbe capire appunto quanto si può andare avanti con un sistema così, o quanto invece la sanità deve investire sul pubblico, e deve investire sulla possibilità di tutti di avere cure abbastanza velocemente, perché poi, mi ricordo sempre, da una parte ci sono degli esami che ci vogliono un anno per riuscire a farlo, operazioni che ci vogliono più di un anno per riuscire a finire in distra d'attesa, altre situazioni invece si hanno anche molto più velocemente, molto più facilmente, basta muoversi un pochino, quindi capisco anziani e persone in difficoltà che magari vogliono farlo sul laboratorio sotto casa, noi altri possiamo anche prendere e andare dall'altra parte della città, dall'altra parte della provincia, anche si può pensare anche di andare fuori, perché la TS comunque è provinciale, insomma, si possono trovare delle soluzioni. Sicuramente questi 23 milioni di euro stanziati per riuscire ad arginare queste 340.700 prestazioni in tutta la regione sono un bel modo per dare una sveltita, si può dire sveltita, per cercare, insomma, di smaltire un po' queste liste d'attesa che veramente a volte sono davvero, davvero troppo lunghe. Eh sì, ma lo sapete tutti quanti, dai, l'avete visto già oggi sui giornali e lo sapete benissimo che la notizia è un'altra, è un'altra, eh sì. Perché continuiamo a darlo per spacciato, per finito, da demolire o al massimo da tenere come simbolo dei fasti andati. E invece il giorno è arrivato. Il giorno in cui lo stadio di San Siro si è preso la sua rivincita. Chiamatemi romantico, idalista, ingenuo, ma il terremoto che sta scuotendo la città, le sue istituzioni, c'è anche un consigliere regionale tra gli indagati, non posso non pensare che sia la migliore rivincita per quello stadio, che quando fa comodo è simbolo di cuore, passione, ricordi con anziani genitori e nonni, ma che poi si rivela il teatro della miseria umana, dei più bassi istinti e mero oggetto di business. Di questa maxi operazione contro le curve di Milano e Inter, che si sta allargando a tanti ambienti di questa città, riconosco la reazione del rigetto. Avete presente il rigetto dopo un trapianto, il rigetto che ha il nostro organismo verso un corpo estraneo? Ecco, lo stadio di San Siro ha decretato il suo rigetto, per questo calcio, per questo modello di business inconsistente e per le sue due curve, la nord e la sud, usurpate da criminali e faccendieri. San Siro è il grande ferito, oltre a tutto il mondo del calcio pulito e a tutti quei tifosi che vanno allo stadio a seguire la propria squadra del cuore e lo fanno appunto con il cuore e per il cuore. San Siro si sta vendicando, San Siro è vivo, le luci a San Siro continueranno a brillare. Iggy Pop, Last for Life, per introdurre appunto quello che sta succedendo a San Siro. Le parole che ho letto prima le ho scritte questa mattina io in realtà, di getto così, mentre pensavo appunto a come lo stadio di San Siro si stia rivindicando davvero di tutti questi anni in cui è stato bistrattato, in cui è buono per essere la scala del calcio quando ci andiamo appunto con i genitori, con i nonni, quando dobbiamo parlare di Meazza, quando dobbiamo parlare magari di Rivera, quando dobbiamo parlare di tre olandesi, ok va benissimo, ma poi dopo quando invece serve per farci guadagnare, serve per farci fare soldi, buttiamolo giù tanto, chi se ne frega. Ebbene, questa mattina i giornali aprono praticamente la cronaca locale, praticamente solo con le notizie che hanno a che fare con l'inchiesta degli Ultra. Vi leggo alcuni titoli dal Corriere della Sera. Inchiesta Ultra, i biglietti chiesti a Inzaghi e l'interrogatorio a Skriniar. Si vedeva che aveva paura. Poi, controlli inefficaci e pressioni ultra sottovalutate. Ecco che cosa rischiano ora. Inter e Milano, perché sì, le società rischiano, sembrerebbe così, leggendo anche altri giornali, il commissariamento, alcuni sono arrivati pure a scrivere. Cristian Rosiello e Islam Alex Agag, gli ultra arrestati vicino a Fedez, dal pestaggio a Jovino, alla vacanza con il rapper a Parigi, poche ore prima dell'arresto. E poi, il dominio sulla sud, le chat con i Narcos, con il nome Belva Italia, le mani su eventi e locali, Luca Lucci, il leader milanista in manette. Poi, chi sono i leader ultra arrestati da Beretta e da Beretta? Da Federico, scusate, da Ferdico, ai fratelli Lucci e Rosiello. Ma poi ancora, Fedez e la telefonata a Luca Lucci per acquistare il Lode Fashion. Come ti introduco? E all'ultra, fai entrare l'AVM allo stadio e vi prendete una percentuale. Questi sono solo la prima pagina di Corriere della Sera Milano online. Ma non è che la Repubblica sia molto diversa, perché appunto, arresto nelle curve, il procuratore antimafia dice logiche di intimidazione e omertà, stiamo leggendo la Repubblica adesso, per Inter e Milan, procedimento di prevenzione. E spiegano bene che cos'è questo procedimento di prevenzione. Poi, cos'altro c'è? Da Baiocchi a Belocco, i due anni che hanno ridisegnato il potere nelle curve di Milan e Inter. Pressioni per i biglietti di Champions League e i consigli sul calcio mercato. Ecco come gli ultra dettavano legge su Inter. E Milan, e poi ancora Fedez e il braccio destro Rosiello, ai riferimenti a Jovino e Tony F, chi sono i personaggi tra tifo e musica citati nell'inchiesta sulle curve. E poi anche, quello che dicevo prima, Manfredi Palmeri, indagato nell'inchiesta sugli ultra, ha un quadro in cambio dell'aiuto sull'appalto dei parcheggi. Il consigliere regionale di Lombardia Migliore e manager della società che gestisce le attività del Meazza, indagato per corruzione tra privati e stamattina, appunto, è stato, e ieri mattina è stato perquisito. Questa è la situazione in questo momento, in questa città. Insomma, una situazione per nulla semplice, mi verrebbe da dire, per nulla facile da gestire, nel senso che è veramente qualcosa di molto, molto complicato. Staremo a capire, appunto, come andranno avanti le indagini. Indagini che stanno veramente facendo tremare tutta quanta la città. C'è chi già parla, appunto, di rischio commissariamento per le due società di calcio. C'è chi parla di rischi molto più grandi, appunto, anche poi, per i consiglieri, per questo, in questo caso, Manfredi Palmiere, appunto, indagato su delle inchieste sugli ultra. Poi, bisogna capire, perché veramente, qui adesso tirano dentro chiunque. Mi ricorda un po', con le dovute proporzioni, gli inizi di mani pulite, devo dire la verità. Adesso qui stanno tirando dentro chiunque. Chiunque passava dallo stadio viene tirato dentro. Quindi, attenzione anche a questo. Attenzione a se non fare gli sceriffi su tutto e per tutto. Vero è, sicuro è, che finalmente si capisce anche certe situazioni, tipo la famosa pace che c'era tra cugini, no? Dei due cuve, grazie allo stadio, c'è da dire. Nel senso che, appunto, c'erano ben altri motivi per cui mantenere quella pace. e quindi, insomma, è stato svelato tutto. Ormai, nel senso che tutto è abbastanza agli occhi di quello, di tutti quanti. È molto interessante anche vedere come anni fa, quando uscì un'inchiesta simile sulla curva, ad esempio, della Juventus, tutti gridarono lo scandalo dicendo ecco lì il potere, la Juventus, l'ultra così e qua, alla fine è uguale. Oltretutto, mi viene a dire, con delle società che ancora, continuo a ripetere, non sono più le società di una volta con il presidente che è Deus Ex Machina di quella società, quindi il Berlusconi, il Moratti, il Pellegrini, ok? No, non è più così. Ci sono i fondi, ci sono gli investitori esteri, gli investitori americani e poi, pensate, pensate una cosa, ma al grande investitore americano, al fondo Elliot di turno, ma cosa ne può fregare? Di queste miserie umane, io le chiamo così, perché questa è la miseria umana del bigliettino dell'abbonamento che serve a 40 abbonamenti, se ti chiesto ad esempio all'Inter, cioè cose del genere, ma che senso ha? Nel senso davvero, dove sta la miseria, dove sta il nesso tra questi due mondi, no? Il mondo dei grandi club, dei grandi club, come vengono chiamati, Quindi quelli che fanno la Champions League, quelli che volevano fare la Super Lega Europea da soli, che volevano staccarsi e andassero a fare un campionato loro, e poi queste miserie umane di quisquiglie su questioni molto più gravi, poi in realtà, perché sono veramente, c'è di mezzo comunque, ci sono di mezzo dei narcos, sembrerebbe, ci sono di mezzo delle intimidazioni, ci sono di mezzo davvero tantissime, tantissime cose che vi invito, io non sono neanche poi troppo nel mondo del calcio, quindi faccio fatica a capire dove finisce il tifo e dove inizia la criminalità in questo caso, ma so che sono ben divise invece dovrebbero essere ben divisi, ma lo sono anche, perché ricordiamoci sempre che le curve sono sì grosse, importanti, ma prima di tutto non stiamo parlando di tutta la curva, stiamo parlando di pezzi di curva e stiamo parlando soprattutto di pezzi di tifo, speriamo che le società capiscono di come è importante invece tutelare le società in primis, ma anche il resto dei tifosi, soprattutto perché non se ne esce bene e insomma il calcio dimostra ancora una volta una faccia non molto interessante, va bene, posso usare questo termine, non molto pulita, non so, posso usare quest'altro termine, sta di fatto che insomma dimostra davvero la miseria umana che spesso diventieri c'è dietro a tantissime, tantissime storie. E bentornati alle 8.07 di oggi martedì 1 ottobre ancora qui con Good Morning Milano in diretta su Crystal Radio FM 96.2 Dub Plus l'applicazione Proviso Android il sito Spotify insomma dove volete ci trovate ma soprattutto potete anche rivedere i pezzi e riascoltare i pezzi che noi appunto facciamo qui durante la mattina perché ad esempio in questo momento abbiamo un'ospitona un'ospitona che se vi volete che se dovete per favore so che a questo dovete entrare in ufficio vi prendete il pezzo e potete andare a rimpescare direttamente da Parigi buongiorno Alessa Berla buongiorno a tutti buongiorno allora paralimpica del nuoto giusto? esatto ok allora io leggo il tuo palmarès dicono così partiamo dal basso un oro agli europei giusto? sì cinque argenti agli europei otto bronze agli europei sì poi saliamo di livello un argento ai mondiali e due bronze ai mondiali esatto e un argento a Tokyo 2020 sì e una medaglia di legno a Parigi però non me l'hanno data non te l'hanno data pensano di darla sentivo questa cosa che pensavano di dare anche quella beh perché anche nella paralimpiade abbiamo tenuto il nostro record di quarti posti siamo riusciti a fare una marea di quarti posti che dovrebbero darci un premio solo per quello esatto tra parentesi ho visto le due finali due finali hai fatto giusto una delle due praticamente di niente di quanto? niente la parola niente è più lunga del tempo che ci voleva per toccare quel maledetto bordo della vasca esatto però com'è stata com'è stata l'esperienza? è stata è già la terza che faccio eppure ogni volta è come se fosse la prima c'è stato Rio dove davvero era la prima volta quindi non sapevo cosa aspettarmi ed è stato tutto una balia un'onda di emozioni Tokyo è stata particolare perché c'era tutta la questione Covid senza pubblico esatto mentre Parigi si è tornato col pubblico dopo otto anni da Rio quindi con un atteggiamento più maturo e tutto eppure è successo che le aspettative hanno pressato parecchio e poi le disillusioni sono state un po' grandi ecco si brucia ancora? eh beh si anche perché noi siamo tornati il 9 settembre quindi neanche un mese praticamente ieri siete tornate categoria S13 la tua medaglia Tokyo giusto ok quest'anno invece hai fatto le finali dei sempre S13 no S12 no io sono S12 allora nel Paralimpico bravi sapete che volevo arrivare a quello nel senso che le Paralimpiadi ormai le seguiamo praticamente tutti cioè finalmente per fortuna anche grazie al Comitato Paralimpico ha fatto un lavoro pazzesco dopo Londra si è aperto tantissimo a questa voglia anche di seguire appunto questi spot però a volte è incomprensibile perché c'è queste categorie che non si capiscono allora S tu sei S12 12 cosa significa? significa che nel mondo Paralimpico del nuoto ci sono 13 categorie in totali ok e dalla S sta per Sporting Class Swimming ok dalla classe S1 alle S10 sono le disabilità fisiche ok dove S10 hai più funzionalità perché si parla di funzionalità non di disabilità quindi quello che uno può usare può è interessante cioè non è quello che non può usare è quello che può usare esatto le abilità che ha già si ribalta il paradigma no? esatto e questo è molto importante mentre nelle categorie S11 12, 12 e 13 sono quelle dedicate alla disabilità sensoriale ok in questo caso quella visiva ok dove S11 sono le persone completamente non vedenti ok S12 che ci vede un po' di più S13 ci vede ancora di più ok nel 2015 quando sono entrata in nazionale RS13 poi purtroppo la malattia è degenerativa quindi ora sono 12 oh chiarissimo chiarissimo ma ma a Tokyo ho gareggiato e anche quest'anno in due gare e su 4 le ho fatte con le S13 perché chi è da categoria inferiore può entrare nelle gare di categoria superiore il contrario ovviamente non è giusto ah giusto giusto quindi in realtà hai fatto una gara con quelle che ci vedono un po' meglio di te esatto ho detto ma scusami sì sì terra terra scusami se devo semplificare tra parentesi stamattina mentre facevo la doccia che è l'unico momento in cui sono sotto l'acqua io quindi non sono un grande nuotatore pensavo però come già entrare nell'acqua ti priva di alcuni sensi e io affido tutto alla mia vista a quel punto nel senso che lì è molto difficile a capire a muovervi arrivare quest'anno poi è stato anche molto interessante vedere la comunicazione della Paralimpia molto comica anche in certi momenti anche spensierata diciamo ma appunto questa privazione di alcuni sensi e altri che in punto non puoi sfruttare al massimo sì è veramente l'acqua è un elemento molto particolare che non troviamo da nessuna parte durante il giorno a meno che tu non vada in piscina o al mare è proprio un bottarsi nel vero senso la parola esatto però la sensazione che ti dà è impressionante perché tu senti il tuo corpo in ogni momento dov'è mentre con l'aria è un po' diverso lo percepisci di meno ovviamente l'udito e il tatto vengono meno però la sensazione proprio di libertà contenuta che ti dà l'acqua è qualcosa di bellissimo chiarissimo allora adesso rimani qui con noi adesso andiamo con un po' un'altra canzone i Depeche Mode e poi torniamo ancora qui a parlare perché sono curiosissimo sulle Paralimpiadi sono veramente stracurioso voglio sapere tutto quello che è successo a Parigi anche sapere la mensa che molti giorni voglio capire se la vostra mensa era meglio di quella degli Olimpionici perché magari l'hanno migliorata poi in quelle due settimane no magari no ecco ci ha già detto di no e questo è un Depeche Mode My Favorite Stranger 8 e 16 minuti 331 78 535 555 il nostro numero di Whatsapp scriveteci anche se avete qualche domanda per Alessia Alessia Berra qui con noi Paralimpica appunto di ritorno da poco da quella di Parigi un mesetto neanche quasi neanche meno di un mese che siete tornati c'è ancora c'è ancora l'aria di baguette nel naso come funziona com'è andata allora questa esperienza dai mi dicevi sempre emozionante immagino qualcosa di sì sì parecchio emozionante poi avere soprattutto degli atleti francesi in batteria o in finale era bellissimo perché se tu provi a chiudere gli occhi c'era di fianco a sinistra che partiva il coro e poi si espandeva tutto lo stadio che tra l'altro la piscina è stata costruita in uno stadio da rugby quindi era impressionante la quantità di spettatori che c'erano sempre pieno è stato bellissimo non hai potuto fare una cerimonia d'apertura perché vi è una gara il giorno dopo sì è già la terza volta che succede adesso comitato paralimpico allora adesso fate un turn over cioè quando la terza olimpica non ce la fa adesso la quarta cerchiamo di fare in modo di metterli due giorni dopo almeno una gara facciamo un appello il programma gare è molto molto complicato è molto lungo perché noi del nuoto siamo gli unici a partire il primo giorno e a finire l'ultimo giorno con le gare quindi due settimane interrotte di gare ci sono praticamente esatto mamma mia dicevi quante categorie ci sono solo per il nuoto 13 13 categorie ma insomma capisci che sono tante tante le discipline anzi a proposito la domanda che tutta Italia si sta ponendo in questo momento tu fai farfalla giusto anche sì esatto qual è la differenza tra farfalla e delfino è solo il nome ecco io lo dicevo ai miei amici che era così però dicevano a livello internazionale si dice butterfly o in spagnolo mariposa o così o papillon in francese in Italia e noi delfino vabbè abbiamo un'idea di stare degli animali evidentemente ok invece voglio capire un po' come si diventa un'atleta paralimpica tu a che età hai iniziato e quando invece hai scoperto il mondo paralimpico io ho iniziato a far le gare nel 2001 quando avevo 7-8 anni e ho continuato a fare i corsi prima ho fatto i corsi di nuoto poi sono entrata nell'agonismo le volte a settimana in cui mi allenavo da 3 sono diventate 4 5-6 poi inizio alle palestre e quindi fino ai 20 anni ho nuotato in una squadra di normo dotati tranquillamente nel mio paese nell'azzurra di Buccinasco ah sì salutiamo Buccinasco a proposito ciao e poi a 20 anni ho scoperto da sola per altri motivi perché volevo fare un corso da istruttore per ragazzini con disabilità allora mi sono interessato ho scoperto la federazione e ho buttato lì ma io ho anche questo problema di vista non è che magari esista una categoria e lì ho conosciuto un allenatore che proprio mi ha buttato in acqua e da lì è iniziato la mia carriera da paralimpica all'inizio è stato un po' strano arrivare in questo mondo perché come tutti pensiamo la disabilità è quello col bastone o è quello in carrozzina ok mentre io che ci vedo un po' quindi non adesso beh ho iniziato a usare il bastone però prima non lo usavo dicevo io non sono come loro cosa ci faccio qui e poi si capisce che disabilità significa essere in una condizione diversa dagli altri una condizione di svantaggio rispetto alla maggioranza ok e quello era vero quindi ho iniziato ad accettare e a iniziare questo percorso non deve essere facile quel momento in cui appunto devi fare quel passo di accettazione in un certo senso il giorno prima sei quella che ci vede poco diciamo il giorno dopo invece sei una disabile esatto ti viene detto così no? sì che io la parola ipovedenza non sapevo neanche che esistesse e infatti io ho sempre detto ah ho un problema di vista e poi ho scoperto che invece addirittura era una disabilità questo però è solo una parola che però a livello sociale proprio ti etichetta e tutta questa storia la sto la sto scrivendo ah bene sì infatti per tanti anni ho indossato una maschera proprio per non far vedere questo problema questo difetto ingegnandomi facendo di tutto per per non far vedere che c'era questa piccola diversità eppure è una mia caratteristica come uno è celiaco come uno è basso ma segni particolari come si diceva una volta sui segni particolari c'ho questa roba qua appunto che non sei solo quella roba lì però anche il riso è quello però stare attenti anche a non diventare la propria disabilità poi spesso volentieri perché c'è un po' questo rischio a volte sì sì perché poi l'atteggiamento che uno ha fa tutto se la prendi come caratteristica è parte di te o se la prendi come un vittimismo succedono tutte a me quello è un'altra un'altra cosa non deve essere però facile tutti i giorni no? sì è un lavoro complicato? no è che oltre a tutti gli sbattimenti delle persone comuni ti svegli e ci vedi poco e fai cadere l'acqua e fai cadere i bicchiere e non vedi le cose e ci vai a sbattere quindi questo dà un po' fastidio però ci convivi ti metti la nema in pace sai che è così e ci fai su una risata ecco soprattutto la grande risata si farebbe se ci mettiamo in piscina io e te insieme e vediamo lì poi chi è il disabile davvero perché insomma lì il rischio è che non arrivino anche a metà piscina io e quindi te lo dico il rischio è quello lì a meno che mi metti vicino al bordo allora lì posso posso barare un attimino ma insomma dai ognuno il suo ognuno il suo il tuo è quello che però appunto ti ha portato a fare ben tre olimpiadi tre paralimpiadi giusto? siamo già in visione della quarta si possa pensare di farla non so come funziona con l'età perché poi sai queste robe qua quando finisco una gara c'è sempre la voglia di fare di più sembra che il lavoro che hai fatto non sia mai abbastanza quindi rimane sempre questa voglia questa fame di dire cavolo allora ci devo riprovare e quindi ci riproverai sicuramente Tananai analisa con storie brevi e poi troviamo sempre qui con Alessia Berra Tananai analisa storie brevi invece non è breve la carriera paralimpica di Alessia Berra a cui facciamo tanti auguri anche per il futuro della carriera ci mancherebbe ma abbiamo pochi minuti nella pubblicità quindi la domanda l'altra Delfino e Farfara l'abbiamo capito invece l'altra domanda che sono tutti è questa famosa mensa del villaggio olimpico di Parigi com'era? allora sicuramente era un po' meno fornita sia di quella di Tokyo che di quella di Rio e boh io gli ultimi giorni avevo fame ma non avevo proprio voglia di entrare in quel posto perché sì sì è stato un po' strano soprattutto per me che mangio come un bue no ma anche perché insomma è fondamentale poi l'alimentazione per chi fa appunto uno sport a quei livelli poi sì sì tre settimane sono tante poi scegli sempre cosa mangiare cose diverse però alla fine quello che ti piace sono sempre le stesse sì e non è che può uscire andare da McDonald's come facciamo noi e quindi cioè non è così facile farlo ma voi potete uscire dal villaggio olimpico quando volete come volete o come funziona? sì questa volta sì bastava chiedere il permesso al CT e si poteva uscire quanti eravate voi del nuoto più o meno? 28 in nazionale 28 in nazionale bene dai come è andata nel complesso il team? è andata benissimo su 28 in 24 hanno portato a casa i metalli ah però sì 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 siamo una grande squadra e quasi ti senti in difetto quando non arrivi a podio perché dici cavolo sembra così facile ma non lo è cioè ogni gara sono veramente dei fenomeni i miei compagni sì ma anche adesso stai facendo troppo la gentile con i miei compagni anche tu non sei un gran fenomeno insomma ricordiamo che c'è questo aspetta sentite ecco questa è la differenza che c'è stata tra il tuo tocco e il tocco di quell'altra più o meno no? questo così ecco non di più capite che 10 centesimi una cosa del genere mi sembra di aver visto 10 centesimi niente c'è una macchina in formula 1 la differenza che ci sono delle macchine in formula 1 ecco erano invece i cento che disciplina erano? allora i cento stile sono dove sono andata più vicina più vicina i cento stile una canzoncina adesso ce l'ascoltiamo dai Lost Frequency The Feeling e poi di nuovo qui dopo la pubblicità 8 e 35 minuti rientriamo dopo la pubblicità sempre qui a parlare di Paralimpiadi con Alessia Berra Paralimpica della Nazionale Italiana di Nuoto che dicevi appunto tu hai scoperto il mondo paralimpico a 20 anni hai invece iniziato a nuotare all'età di 8 anni tra parentesi possiamo dare questo piccolo cosa fuori onda abbiamo scoperto che il tuo istruttore di nuoto uno di tuoi istruttori di nuoto è un mio amico abbiamo scoperto questa cosa qua quindi un saluto a Elia quindi salutiamolo il mondo è piccolo il mondo è piccolo è Bucinasco pescina appunto l'Azzurra ma tutta questa storia tu la stai scrivendo e la racconti e potremmo finalmente leggerla quando, come, perché anche viene da dire allora iniziamo dall'ultima domanda quando a gennaio uscirà il libro che si intitola La criniera della Leonessa molto power e perché? perché io vado nelle scuole a fare testimonianza visto che proprio nel 2016 sono andata a fare le prime paralimpiadi ma nel 2012 non sapevo neanche che esistesse il mondo paralimpico quindi dopo aver visto le olimpiadi avevo spento il televisore e quattro anni dopo mi sono trovata lì a farle e dire cavolo esiste anche questo e allora ho iniziato un po' questa missione di andare nelle scuole a dire ai ragazzi oh ragazzi guardate che esiste anche questo mondo quindi se conoscete qualcuno diteglielo perché quanti ragazzi ci sono che magari pensano di non avere possibilità c'è un mondo apposta adattato dove uno riesce a sviluppare tutte quelle potenzialità che nel mondo reale nel mondo della scuola e quotidiano spesso ci sono delle limitazioni nel mondo conformato mi vorrei dire ok esatto meglio ecco così dai e quindi ho detto cavolo perché io ho due ore d'incontro quando vado nelle scuole perché non raccontare di più quindi scrivere la mia biografia dove per proprio mandare questo messaggio come io ho affrontato le mie difficoltà non sono una super atleta un'eroina o chissà che cosa sono una ragazza comune mi sono fatta al mazzo e e sono arrivati anche i risultati e insieme ai risultati appunto che potremmo leggere finalmente nel tuo libro appunto da gennaio è molto interessante questa cosa dell'andare a testimoniare come reagiscono che scuole fai di solito di che grado ho fatto di tutto dalla prima elementare hai anche insegnato a scuola mi dicevi giusto sì 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 sono laureata in scienze motorie ho insegnato tre anni come reagiscono nelle scuole quando appunto avrei raccontato la tua storia raccontare di questo mondo magari appunto sconosciuto di più che il mondo paralimpico c'è molto interesse perché adesso quando chiedo chi è che ha visto le paralimpiadi sono sempre di più le mani alzate quindi è sempre molto molto più bello sì è stimolante stimolante esatto anche perché significa che qualcosa sta davvero passando da noi atleti che dalle gare e tutto è molto interessante perché quest'anno diciamo prima poi adesso entriamo un po' meglio nel discorso di come forse una volta c'era un po' di pietismo nel raccontare la paralimpiade e appunto le disabilità erano quelle la sede rotelle il bastone si fermava lì non di più l'amputato queste qua invece adesso finalmente si capisce che ci sono varie funzionalità all'interno del mondo paralimpico si cambia anche un po' il modo di raccontarlo appunto quest'anno abbiamo visto anche questa cosa del supereroe ormai sta un po' scemando forse per fortuna non so chiedo a te e anche molta ironia nel raccontare le paralimpiadi quest'anno sì sì l'ironia è la cosa che ci caratterizza perché se non ridi te delle tue difficoltà se lo fanno gli altri è un peso quindi è bello così l'auteronia ti aiuta a prendere con più leggerezza la vita e raccontarti in modo diverso nel senso io sono uguale a te però guarda che cosa mi succede in più ho notato un grande agonismo che è uscito fuori appunto dalle varie interviste dalle varie paralimpi con molta gente che è rimasta un po' sconvolta da questa cosa ma come sono agonisti anche loro e beh sì nel senso perché no mi viene da dire sì noi arriviamo là per vincere ci alleniamo come tutti il fatto è che ci si aiuta anche tanto quindi se tu hai bisogno di una spinta te la do se io ho bisogno che qualcuno mi legga qualcosa me lo leggono poi in vasca si azzera tutto ognuno ha la sua corsia e si fa quel che si può devo dire molto belle le scene dell'apertura delle paralimpiadi dove ci sono state ad esempio delle persone in carrozzina spinte da persone non vedenti era bellissima questa scena con la persona in carrozzina che diceva al non vedente dietro girati a destra che c'è la telecamera che ci sta riprendendo quindi c'è scene bellissime devo dire sono state molto interessanti e ci fanno capire davvero di come questo mondo si sta sta entrando finalmente anche nel nostro di mondo perché forse prima erano un po' troppi separati sì esatto l'inclusione è proprio quello che si sta cercando di fare perché se prima era sto due ore in acqua e mi sento bene ma le altre 22 ore del giorno mi sento emarginato non posso fare educazione fisica perché non me la fanno fare mentre adesso c'è più una sensibilità da parte del mondo e più integrazione inclusione solidarietà da parte di tutti andiamo con un po' di musica ancora e poi torniamo ancora qui con Alessia Berra Paralimpica Adriano Celentano con Amore No Remix 2024 si balla questa mattina qui su Crystal Radio 331 7853 555 una summa di Whatsapp grazie a chi ci sta scrivendo grazie a chi ci augura la buona giornata grazie a Giulia che fa i complimenti ad Alessia grazie mille contraiamiamogli auguri e complimenti Giulia anche per te ci sentiamo inclusivi appunto allora parlavamo di Paralimpiadi e di come adesso anche la carriera dell'atleta paralimpico è un po' più non dico facile ma nel senso agevolata dal fatto che finalmente fate parte anche voi dei corpi sportivi delle varie armi divise frecce gialle azzurre fiamme fiamme non frecce frecce azzurre sono un'altra roba frecce tricolore fiamme tu sei fiamme azzurra giusto? che sono il corpo dei polizia penitenziaria polizia penitenziaria perfetto questa è la novità però del mondo paralimpico giusto? sì esatto dopo Tokyo i corpi militari si sono impegnati ad aprirsi a rendere possibile il fatto di farci diventare atleti professionisti come tutti gli altri hai detto dopo Tokyo prima di Tokyo non era così quindi tu mi stai dicendo che ti sei preparata alle Olimpiadi di Tokyo e quelle di Rio lavorando come comuni mortali ma facendo poi cose da paralimpica esatto cose da atleta infatti come funziona lì nel senso sì sì funziona che qual era la tua giornata tipo all'epoca? la mia giornata tipo per esempio prima di Tokyo io lavoravo a parte nelle scuole quindi durante l'anno la mattina lavoravo a scuola poi mangiavo in mensa coi bambini coi ragazzi e dopo andavo ad allenarmi e fare quindi in acqua e poi in palestra mentre nel momento dell'estate lavoravo a un campus estivo facendo l'accoglienza la mattina poi mi spostavo andavo a fare palestra poi tornavo al campus fino al pomeriggio poi tornavo in piscina a fare l'allenamento e poi basta crollavo perché immagini la preparazione atletica era già solo riuscire a giostrarsi tra un impegno e l'altro cioè qualcosa di adesso invece fai questo full time sei un atleta full time che significa oggi ad esempio ti stiamo rubando alla piscina oggi o alla palestra oggi sono in vacanza dopo le olimpiadi vacanza sì un attimo di stacco quando si ricomincia si ricomincia poi dipende da metà ottobre metà ottobre diciamo perché ci sono che cosa c'è in vista a novembre ci sono già i campionati italiani in vasca corta ah ok e vuol dire che per i campionati italiani tu ti preparai in che maniera quale sarà la tua preparazione giornaliera si comincia sempre subito due ore al giorno di acqua da lunedì a sabato e poi si cominceranno le palestre non so se saranno due o tre più il pilates almeno per quanto mi riguarda eh sì perché ormai l'età avanza e bisogna curarsi ecco dico a tutti quelli in ascolto non basta però il pilates non è che adesso avete detto ah lo faccio anch'io quindi vado le olimpiadi no non basta solo il pilates due ore di vasca al giorno dal lunedì al sabato cioè praticamente neanche i pesci nell'acquario fanno così tanta acqua mi viene da dire sì sì si macinano i chilometri soprattutto inizio stagione poi piano piano si va avanti e si va a lavori sempre più specifici per arrivare a preparare la gara contate i chilometri che fate per caso come ciclisti sono 6 al giorno voi fate 6 chilometri al giorno quindi in realtà nella stagione fai migliaia di chilometri praticamente e poi quando ci sono in doppie sessioni significa fare 6 al pomeriggio la mattina 6 al pomeriggio 12 chilometri di nuoto al giorno sì bene ecco ho capito perché non farò mai l'atleta e non sarò mai in una vasca ma comunque Alessia io ti ringrazio tantissimo davvero di essere qui con noi grazie grazie anche di essere di aver portato comunque alta la bandiera della città metropolitana in Milano perché tu sei nata a Monza dove sei nata? sì sì sono nata a Monza a Bucinasco vivi a Bucinasco credo giusto da quelle parti lì insomma hai portato anche la bandiera di Milano in quella di Parigi e grazie davvero per tutto quello che hai fatto porto un saluto a tutto il restante della squadra che so essere bella tosta come dicevi 24 metalli su 28 beh insomma dai 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 secondo me 28 su 28 ce la facciamo prima di farlo va bene tocchiamo tutto i metalli possibili immaginabili Alessia Berra grazie mille davvero devi tornare anche se sarai in allenamento quando esce il libro però certo ci devi venire a portare il libro va bene va bene grazie mille Alessia andiamo con un po' di musica poi torniamo per i saluti finali sempre qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano vi ricordo anche il sito internet su cui potete ascoltare tutti i pezzi delle nostre interviste goodmorning.milano.it poi ovviamente ci sono anche i social ci abbiamo anche i link pensate che roba non ci manca solo come è che si chiama Tinder no quello non ce l'abbiamo però possiamo lavorare anche su quello se volete ci mancherebbe torniamo a far poco prima Cesare Cremonini la nuovissima sua appena uscita ora che non ho più tè Cesare Cremonini alle 8.48 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 8.54 minuti martedì 1 ottobre volge il termine la puntata odierna di Good Morning Milano dopo di noi lo sapete benissimo ci sarà Ambrogio Curti alle 9.05 con senti questa grande musica grandi storie raccontate dal bravissimo Ambrogio Curti 9.05 dopo il giornale radio senti questa se invece volete risentire o sentire questa puntata c'è il nostro podcast su Spotify su Apple Podcast oppure goodmorning.milano.it tempo un attimo in regia di fare due tre accorgimenti due tagli quattro sistemazioni e poi è pronta lì la bravissima Ginevra produce tutto questo ogni mattina per voi in modo che potete riascoltare tutto quanto soprattutto le interviste ai nostri ospiti come questa mattina l'intervista d'Alessia Berra paralimpica che è venuta a trovarci qui in studio con noi e domani che troviamo qua è sempre dalle 7 alle 9 con tanti ospiti tante informazioni tante notizie i giornali tutto il menu ben apparecchiato di Good Morning Milano le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Alessia Berra e Fabio Ranfi qui al microfono in regia Ginevra un saluto alla producer redazione di Beatrice che speriamo si rimetta presto e torni qui con noi domani mattina noi ci siamo dalle 7 alle 9 buona giornata a tutti ciao